Prima di dare la parola al dottor Citro, io vorrei che lei, padre, mi raccontasse un qualcosa su questa legge approvata alla Camera, la legge Zanno. Come la vede lei? Legge Bavaglio, si sente dire, inutile, perché la Costituzione italiana già prevede la difesa del cittadino contro qualsiasi abuso. Potevo accettare il fatto che magari si ricalcasse più la mano su determinati atteggiamenti, ma quello che c'è dietro a questa legge è veramente liberticida. Cioè mi si dice, portando avanti espressioni che ormai non ci capiamo più, quello che è sesso, quello che è genere, quello che è famiglia, quello che è addirittura la libertà di espressione che è sancita dall'articolo 21 della Costituzione, dove è chiarissimamente espresso, non può essere più chiaro, del fatto che le mie opinioni di qualsiasi tipo li posso dire, ovviamente nel rispetto degli altri. Cioè la mia libertà di espressione finisce dove inizia la tua. Esatto. Io sono contro l'espressione francese che c'è addirittura il diritto alla blasfemia. Cioè non è quella la libertà, se tu con quel diritto stai offendendo le espressioni più profondi di una persona che può essere quella religiosa, chi ti dà questo diritto? Cioè è vero allora che ci troviamo in una società oggi dove tutti i capricci diventano diritti. Non è così. Rimane sempre la libertà di espressione e la libertà di espressione significa che io possa esprimere ciò che ho dentro, il pensiero, senza la possibilità di sapere che può diventare anche un crimine, punibile con multe, punibile con carcere. Cioè questa legge... Quindi qualcosa che comporterebbe esattamente? Cioè se uno dovesse mancare di rispetto... Cioè in un concetto, in un ambiente dove è entrato a pieno diritto quasi la teoria gender, che se vuoi dopo ti posso dare anche l'origine da dove viene, ci dovremmo vergognare di parlarne di questo, perché se pensiamo all'origine il dottor John William Money, neozelandese, che è stato lui che nel 62 ha iniziato questa teoria, lui che era un pedofilo, lui che è abusato dei bambini e che ha addirittura fatto uccidere i primi due sui quali è intervenuto, i due figli gemelli che poi alla fine si sono suicidati entrambi, il papà e la mamma che avevano dato a lui la possibilità di far cambiare sesso a uno dei due, uno è diventato alcolista, l'altra la mamma è diventata pazza. Cioè noi stiamo costruendo su quello. Che cosa è nel fondo? A che cosa si riferisce la legge? Che se adesso io mi permetto di dire che la Bibbia per esempio difende la famiglia così come Dio l'ha creata, maschio, femmina, bambini, mi si dirà che non posso più farlo, la famiglia è arcobaleno. Ma io non ti sto dicendo, tu puoi fare quello che vuoi, puoi unirti con chi vuoi, puoi sposarsi con un uomo, spostati con un uomo, vuoi convivere con un'altra donna, tu donna puoi farlo, nessuno ti sta dicendo niente e hai anche la mia comprensione se vuoi, ma non mi puoi imporre a me di pensare che devo pensare secondo quel dettame, secondo quell'idea del gender quando è basato sull'abbenaggine.